buon fine settimana buon venerdì amici miei come va oggi sono in trucchiali perché no voglio me lo prenderlo e che dire altro niente sono qui alla quale della farmatta adesso vado a prenderla vado a lavorare ancora oggi dopo si riposa ieri ho detto a tutti che ci sono i puma l'eterno è un gruppo che faceva le cove di po meglio così lo stesso c'era gente di mo falcone ma poca ne tanto più che sono dato alla bella imbriana ho mandato una bellissima stiliziosa pizza in dolce compagnia tranquilli sono ancora non sono in casa e si chiama su un grosso l'itero per i brasiliani la brasiliana e sono ancora libero amici miei però che state bene visto bene adesso sto arrivando alla farmatta ho detto un po falcone la bellissima giornata di fresca sta bene ma ancora che dopo proporlo al caldo arriva al caldo amici miei vi auguro buona giornata e che dirà altro gli scriveti buon dia buon settiman per tutti e spero che tutti state bene io sto bene a voi arriva inverno a noi arriva l'estate un abbraccio forte per tutti buon fine settimana mi raccomando un beijo forte un beijo un beijo e spero che tutti state bene amici miei che fate di bello questo fine settimana io fino a settimana adesso stasera dopo il pomeriggio che ne parivo a casa mi riprodurro un pochino preparo la salsa di miranzane su ordine del maestro candoni mi ricordo che il 20 alle ore 19 al lito di stranzano c'è il concerto del maestro candoni compie con un altro un poeta che si chiama le sue poesie una nuova novità apriamo la sera estiva di stranzano mi raccomando tutti lì con musati anti zanzare eccetera eccetera amici miei vi auguro una buona giornata fate i bravi e poi sarà sempre stranzano più avanti sarà star wars bene mi raccomando fate i bravi e poi sarà qualche serata dovrebbe essere anche buon fine con e non si mi ricordo bene poi qualche altra parte non lo so vediamo se i progetti crescono boh vi auguro una buona giornata mi ripeto di nuovo vi voglio bene sotto tutti tiziano ivane graziana eccetera eccetera le antonelle di antonelle in particolare che mi sopporta da undici anni che mi sopporta questo facebook purtroppo facebook non faccio live dirette e faccio qua direttamente poi carico chi mi guarda da qui purtroppo youtube metto il link non va più o no non faccio perfetto e da quella volta che mi ha preso il diario mi pensate lavoro di farlo purtroppo anche proprio l'applicazione per scaricare il file un casino boh amici miei vi voglio bene sento torna nardine come vedete soltanto tanto nella da cagliari tanto nella dalla liguria e antonella da massacarrara e confettore della valentina un bacio a tutti e mi raccomando pregate per me che dire altro niente sono voglia ancora di dormire ma meno male purtroppo mamma natura chiamato due canote non uscito dormire tutta la tirata ma sono uscito poi andiamo a lavorare vi auguro una buona giornata tutto tutti gli amici e amiche che mi seguono qui guardano perché dico altro vi voglio bene e quelli che non sono iscritti iscrivetevi e fammi conoscere fatemi conoscere vedete questo scemo qua sto facendo le dirette la mattina in distanza della mattina bacio a tutti e tutte mi raccomando fate i bravi iscrivetevi ciao a tutti e buon finissima settimana dai ancora poco è finito per voi ragazzi che studiate fate l'esame dai un bacio a tutti e ringrazio a tutti le persone che mi seguono e che mi guardano medici che mi che lavorano per la salute ringrazio di cuore quello che state facendo per tutti un bacio ciao 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 ciao